Buonasera, benvenuti a questa edizione del TV giornale di Telestense, la cronaca in apertura perché si è sfiorata la tragedia e il pomeriggio a Lido di Spina dove i carabinieri hanno salvato la vita ad una ragazza. La giovane si era allontanata da casa al mattino e il padre nel pomeriggio si era recato in questura per denunciare seriamente preoccupato la sua scomparsa. Immediatamente gli agenti si sono attivati per localizzare il telefono della ragazza che è risultata a trovarsi nella zona dei Lidi Sud di Comacchio. E' partita a quel punto la ricerca da parte dei carabinieri della compagnia di Comacchio, una vera e propria corsa contro il tempo perché si temeva che la giovane avesse intenti suicidi. Un timore purtroppo fondato è stata infatti trovata in un'abitazione, una zona disabitata durante l'inverno dove si era chiusa all'interno. Vedendo la riversa a terra i militari hanno scavalcato, la recinzione è sfondata una finestra per entrare. L'hanno trovata priva di sensi e in grave stato di ipotermia visto che da ore si trovava al freddo. Immediato l'intervento dei medici del 118 che dopo le prime cure l'hanno trasportato all'ospedale di Cona. Al momento la giovane sembra essere fuori pericolo a salvarle. La vita sono stati due militari del nucleo radiomobile della compagnia di Comacchio, il vicebrigadiere Francesco Schiavone e l'appuntato scelto Carlo Mangiacaprio. Partirà lunedì prossimo, torniamo a Ferrara, la bonifica del Palazzo degli Specchi. Intanto questa mattina nel corso di un incontro in municipio si è fatto un passo avanti verso la costituzione del fondo di investimento immobiliare che si occuperà della ristrutturazione del palazzo ricavandone alloggi in social housing. La bonifica del Palazzo degli Specchi comincerà lunedì prossimo, lo conferma l'amministrazione comunale di Ferrara. La società Ferrara 2007 della famiglia Parnasi, proprietaria dell'immobile, ha garantito che si occuperà direttamente della bonifica come previsto da ordinanza del sindaco, ma se la società non adempisse i propri obblighi subentrerebbe comunque il comune attraverso ERA, con cui c'è già un preaccordo. Ieri l'assessore ai lavori pubblici Aldo Modanesi, che si sta occupando di questo versante della vicenda a Palazzecchi, ha partecipato a un sopralluogo con rappresentanti della società proprietaria, tecnici comunali, tecnici di ERA. Oggi intanto si è tenuto in comune un incontro che ha coinvolto l'amministrazione comunale, con il sindaco e l'assessore fusario all'urbanistica, il direttore di Acer Ferrara Diego Carrara, il direttore del fondo Investire SGR Fabio Carlozzo. Obiettivo? Procedere nel più breve tempo possibile alla costituzione del fondo immobiliare di investimento Ferrara Social Housing, che opererà la ristrutturazione del Palazzecchi. Per procedere sono necessarie una serie di adempimenti formali, che tuttavia dovrebbero permettere la costituzione del fondo entro l'estate. Si sta costruendo una proposta di delibera che consenta loro di partire prima dell'estate, a noi pure, e quindi problemi non ce ne sono, tutte le affermazioni circa gli ostacoli che qui si sarebbero ulteriormente frapposti non hanno nessuna validità. Stiamo andando avanti con l'unica strada percorribile, ho sempre detto che non ne vedevo altre e l'unica che avevo ipotizzato, con tanta fatica, ma sta venendo avanti. Quindi questo è l'oggetto dell'incontro di stamattina, molto costruttivo, molto sereno, alla presenza anche di Acer, quindi con tutte le premesse per andare avanti nella prossima primavera con l'avvio dell'intervento di ristrutturazione che, non dico risolve, ma in qualche modo risolve un problema che Ferrara ha sulla groppa da circa 30 anni e che certamente non saranno le ruspe leghiste a risolvere, ma saranno le ruspe della società di costruzione che finalmente metterà fine a questo problema, che è un problema nostro, di tutti, dei cittadini residenti, ma di tutta la città. La cronaca lita in via Baluardi, ieri nella prima serata, quando due gruppi di persone sono venute alle mani e sarebbero stati lanciati anche i sassi, l'arrivo delle forze dell'ordine, ha fatto disperdere gli uomini, probabilmente di origine straniera. La zona, infatti, non è nuova questo tipo di episodi, lo spaccio di droga sarebbe stato alla base dello scontro fra bande che si verificò anche il 20 dicembre scorso nel sottomura di via dei Baluardi. Nuovi migranti sono arrivati nel lab di Ponte Lago Scuro, intanto la Lega Nord chiede un incontro urgente al prefetto in cui chiederà di fermare il probabile spostamento di una dozzina di profughi da un'abitazione in Viale Cavour in una casa a San Bartolomeo in Bosco. Sentiamo perché. Sono 13 i profughi richiedenti asilo di origine africana che venerdì sono stati trasferiti a Ferrara dal Lab regionale di Bologna. I nuovi arrivi sono stati confermati da Angela Alvisi, presidente dell'ASP, l'azienda a servizio alla persona di Ferrara. Attualmente sono 873 i profughi richiedenti asilo presenti in provincia di Ferrara e gestiti dall'azienda a servizio alla persona. Se consideriamo anche la quota gestita direttamente dai comuni attraverso il progetto SPRAR del Ministero degli Interni, si arriva a un conteggio complessivo di 1.025 unità. Il numero di profughi attualmente presenti sul nostro territorio non è cresciuto in realtà rispetto a qualche mese fa, spiega Alvisi. I nuovi profughi saranno inviati quasi tutti nel lab di Ponte Lago Scuro, che è stato allestito proprio a questo scopo, spiega l'Alvisi, che invita a non creare motivi di tensione tra la popolazione. Intanto, secondo il responsabile per la sicurezza e l'immigrazione della Lega Nord, Nicola Lodi, a breve tra i 12 e i 14 profughi verrebbero trasferiti in una casa a San Bartolomeo in Bosco. L'arrivo di altri profughi rischia di provocare tensioni sociali, dice Lodi. Per questo, su richiesta di alcuni residenti, accompagnato dal consigliere comunale Giovanni Cavicchi, ha chiesto un incontro urgente al prefetto di Ferrara Michele Tortora per chiedere un suo intervento che fermi il trasferimento. Profughi che attualmente sarebbero ospitati in un'abitazione in Viale Cavour, recentemente al centro delle cronache, per episodi di Schiamazzi. Aria irrespirabile in questi giorni sulla pianura padana, tanto che oggi in regione si sono riuniti 21 comuni capoluogo per mettere a punto alcune misure straordinarie per far fronte proprio a questa emergenza inquinamento misure che dureranno dal 5 al 12 febbraio. Vediamo di che cosa si tratta. Riscaldamento entro i 19 gradi nelle abitazioni e negli uffici pubblici e i 17 nelle attività produttive artigianali, divieto di utilizzo di camini aperti, alimentati con legno, pellet, cippato, potenziamento dei controlli sulla circolazione dei veicoli nelle città. Sono le misure straordinarie, previste di solito allo scadere del 14esimo giorno consecutivo di sforamenti dei limiti delle PM10, che però verranno anticipate su tutto il territorio regionale e anche a Ferrara per far fronte all'emergenza inquinamento in atto in questo momento in Emilia-Romagna e su tutta la pianura padana. Lo ha deciso oggi a Bologna la cabina di regia, convocata dall'assessore all'ambiente Paola Gazzolo, composta dai 21 comuni capoluogo e con più di 30.000 abitanti. Queste misure si affiancheranno alla domenica ecologica confermata per il prossimo 5 febbraio in 28 comuni, Ferrara compresa. Un incontro a seguito del quale nel primo pomeriggio il sindaco di Ferrara Tiziano Tagliani ha emesso l'ordinanza che impone queste misure di emergenza. È stato un incontro molto positivo, ha detto l'assessore regionale Gazzolo, di fronte a una situazione oggettivamente eccezionale, con superamenti dei valori limiti anche di 4 o 5 volte. Abbiamo condiviso un pacchetto di misure coordinate sul territorio regionale, alle quali diverse amministrazioni hanno già deciso di affiancarne altre. Secondo l'attuale piano aria, quando il limite giornaliero di PM10 viene superato per 14 giorni consecutivi in una provincia, si possono applicare misure di emergenza aggiuntive nei comuni capoluogo e con più di 30.000 abitanti. La decisione odierna di anticipare questi provvedimenti al decimo giorno nasce dalla necessità di fronteggiare una situazione critica, con picchi di PM10 particolarmente elevati su tutto il territorio regionale, dovuti a un fenomeno di inversione termica, vale a dire la presenza di uno strato d'aria calda che scorre sullo strato d'aria più fredda, schiacciando verso il basso tutti gli inquinanti. Ferrara non è tra le province in cui si sono registrati valori peggiori in questi ultimi dieci giorni. Un miglioramento della situazione è previsto tra domenica e lunedì per l'arrivo di una perturbazione che dovrebbe favorire un rimescolamento dell'aria. Ora delle aziende case Emilia Romagna che vennero costruite 15 anni fa con la legge regionale andarono a sostituire i vecchi IACP, istituti autonomi case popolari sulle nuove aziende, avrebbero assunto un ruolo nuovo e diverso, non solo gestione dell'edilizia sociale ma anche progettazione e rigenerazione urbana. Se ne è parlato oggi in occasione della presentazione del libro Acer Ferrara, 15 anni di interventi per i comuni, che fa un bilancio del ruolo nuovo delle aziende casa. La cosa più importante è che nella sostanza molte attività che erano dell'istituto autonomo sono state portate avanti anche dalla nuova Acer, in particolare la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ma l'azienda case Emilia Romagna fa molte più cose rispetto a quelle che faceva il vecchio istituto autonomo case popolari, perché ci occupiamo appunto anche di recuperi di carattere urbanistico, non ci occupiamo più soltanto dei singoli edifici ma ci occupiamo di quartieri. L'esempio del barco da questo punto di vista, in grande sinergia col comune di Ferrara, è un esempio classico. Insieme ad un altro intervento di Reggio Emilia nel comparto con Pagnoni Fenulli, è l'intervento di maggiore spessore, di maggiore estensione. Praticamente nell'arco di un quindicennio il quartiere è stato stravolto, completamente cambiato, si sono inseriti servizi per il quartiere, palestre, uffici, si sono inseriti all'interno di quel contesto negozi e poi il patrimonio di alloggi pubblici è passato da 200 a 320. La mission in sintesi di un'azienda pubblica a casa di proprietà del comune? La nostra mission più importante, lo sottolineavo prima, è quella di mantenere efficiente e avviare anche processi di innovazione rispetto al patrimonio di edilizia residenziale pubblico della provincia di Ferrara. Questa è la principale mission, perché questo patrimonio è fatto da 6.700 alloggi e il secondo patrimonio regionale ed è quello che consente ancora oggi di dare una risposta ai fabbisogni abitativi dei redditi più bassi. Il PIL di Ferrara nel 2016 è cresciuto più del PIL nazionale. Quanto emerge dai dati raccolti dal Centro di Ricerche Prometea e diffusi dalla Camera di Commercio di Ferrara? Sentiamo. Nel 2016 il territorio di Ferrara ha segnato una crescita del PIL prodotto interno lordo pari all'1%, leggermente superiore alla media nazionale che si è fermata allo 0,9%. È quanto emerge dagli scenari economici elaborati dalla Società di Ricerche Prometea che aggiunge la crescita registrata da Ferrara resta comunque al di sotto della media della regione Emilia-Romagna che si attesta per il 2016 all'1,3%. I risultati positivi ottenuti da Ferrara e dalla regione Emilia-Romagna per quanto riguarda il prodotto interno lordo dipendono in gran parte dalla produzione manifatturiera che nel 2016 in provincia di Ferrara ha mantenuto un livello di crescita pari al 2,9%. Ancora in grave difficoltà invece il settore delle costruzioni che ha mostrato un decremento del 3,4%. Nel 2016, si legge in una nota diffusa dalla Camera di Commercio di Ferrara, la frenata del commercio mondiale ha ridotto la dinamica delle esportazioni che per Ferrara hanno registrato una forte contrazione. Quindi il risultato positivo ottenuto dal territorio in termini di crescita, se in passato era da attribuire quasi esclusivamente al commercio con l'estero, nell'anno appena concluso va imputato a una parziale ripresa dei consumi e a una leggera crescita degli investimenti. Prometeia prevede per il nostro territorio scenari di crescita anche per il 2017 e per il 2018. Per il 2017 i dati del Fondo Monetario Internazionale prevedono un leggero rallentamento per l'area euro. Il PIL tedesco dovrebbe crescere dell'1,5%, quello italiano dello 0,7%. Gli scenari di Prometeia stimano per Ferrara un aumento del valore aggiunto dello 0,9% in leggera contrazione rispetto al 2016, ma ancora una volta superiore al dato medio italiano. Nel 2018, infine, Ferrara potrebbe crescere dell'1,1%, ma soprattutto potrebbe registrare, secondo gli scenari di Prometeia, un avvio di miglioramento della situazione del settore costruzioni per la prima volta in crescita con una quota pari allo 0,9%. Un altro dato parzialmente positivo riguarda il tasso di disoccupazione. Nel 2015 si attestava al 12,3%, nel 2016 è stimato al 10,6%, nel 2017 si prevede una flessione ulteriore al 9,9%, un dato che continua comunque ad essere molto elevato. Per favorire la nascita e lo sviluppo di nuove imprese, questo è l'obiettivo del progetto Happy Idea. Nove giovani start-up scelte da professionisti di settore che hanno avuto modo di presentarsi ad un pubblico di possibili investitori. L'evento, che si è svolto nei locali del Tecnopolo di Reggio Emilia, è stato promosso dai giovani imprenditori di Confindustria, con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo della nuova imprenditoria e portare innovazione al sistema produttivo. Oggi è il giorno più importante degli ultimi due anni di questo progetto. Happy Idea è un progetto nato nel 2015 solo su Reggio Emilia, nel 2016 invece è stato ampliato a tutta l'Emilia Romagna e con l'obiettivo di raccogliere non solo idee, ma start-up, opportunità e innovazione con le quali creare contaminazione territoriale. Quindi le nuove idee possono essere parte di un processo di innovazione aziendale e le aziende possono innovare non solo prodotti, ma anche processi. È un progetto che va a soddisfare una delle nostre principali mission, cioè diffondere la cultura di impresa e in questo caso ancora di più il concetto di autoimprenditorialità. Hanno partecipato 83 idee o progetti di impresa, quindi un numero molto elevato anche rispetto all'edizione precedente. Penso che il compito dei giovani imprenditori sia proprio quello di favorire la nascita, la crescita e lo sviluppo di queste giovani imprese, perché sono un po' lo sviluppo, sono un po' le portatrici di innovazione per il nostro territorio, per la nostra economia, creano occupazione, fanno intercettare magari nuovi bisogni di mercato che le aziende consolidate magari non intravedono, sono portatrici di innovazione nei prodotti, nei servizi soprattutto e nei modelli di business. Quindi creare progetti come questi dove di fatto noi diamo la possibilità a questi giovani imprenditori o aspiranti imprenditori di confrontarsi con realtà importanti, incubatori, acceleratori, ma soprattutto anche noi imprenditori, perché spesso per noi adottare tra virgolette o interagire con delle start-up è un'occasione di crescita fantastica, perché in questo modo magari possiamo diversificare per via esterna oppure crescere per via esterna. Le start-up a partire da oggi saranno presenti sul mercato, pronti a conquistare il nuovo pubblico e l'interesse di nuovi imprenditori. Il prossimo 10 febbraio ricorre il giorno del ricordo, tante le iniziative in programma, non solo a Ferrara ma anche a Codigoro, per commemorare l'ex vice sindaco al Ceoranzato, esule da fiume. Una serie di iniziative tra cerimonie, incontri di approfondimento e proposte musicali in programma dal 9 febbraio al 1 marzo, che mirano a ripercorrere alcuni degli avvenimenti più drammatici della recente storia italiana e a commemorare i suoi tanti sventurati protagonisti. Ferrara rievoca anche quest'anno il giorno del ricordo, i cui dettagli sono stati anticipati in conferenza stampa. Il 10 febbraio è il giorno del ricordo, perché il 10 febbraio 1947 a Parigi venne firmato il Trattato di Pace e quest'anno ricorre il settantesimo anniversario. A Ferrara quest'anno ci sono alcuni momenti salienti delle iniziative per ricordare questa giornata, in particolare l'omaggio alla Rotonda Martiri delle Foibe, l'incontro con il prefetto di Ferrara e un'iniziativa presso la scuola Vergani, in via Romei, via Sogari, dove aveva sede il campo profughi di Ferrara. Ed in quella sede il dottor Luigi Salimbeni parlerà appunto del Trattato di Pace e dei suoi effetti. Quest'anno il patrocinio arriva anche dal comune di Codigoro, con il ricordo di Alceo Ranzato, esule da fiume ed ex vice sindaco della località del Basso Ferrarese. Confermato come sempre il supporto del comune di Ferrara, che ha ospitato la conferenza di presentazione. Noi dal 2007 facciamo un intenso lavoro istituzionale, ma anche culturale, scientifico, con una collaborazione con il Museo del Risorgimento della Resistenza e del Conservatorio. Per noi significa ricordare queste persone prima di tutto, ma significa anche ribadire che i nazionalismi in Europa hanno fatto sempre del male. Ha fatto male il nazionalismo fascista, che ha invaso quei territori, successivamente i tedeschi e poi i giugoslavi, che hanno creato la tragedia delle foibe e questo numero enorme di esuli. La risposta quindi è quella di tutelare i diritti delle minoranze, qualunque tipo di minoranze sia. Tra le tante iniziative in programma, anche l'ormai tradizionale concerto del Conservatorio di Musica di Ferrara, Girolamo Frescobaldi, che si terrà sabato 11 febbraio alle 16 a Palazzo Bonaccossi, come anticipato dal docente del Conservatorio stesso, Achille Galassi. Nuova puntata di Salute 3.0, ieri sera in diretta a TV e Facebook. Tutti gli aspetti legati all'acqua sono stati approfonditi con gli ospiti in studio. Sergio Gullini, gastroenterologo e presidente Lilt, Vincenzo Brandolini, docente di chimica degli alimenti Unife e Franco Dallevac, presidente Consorzio Bonifica Pianura di Ferrara, che ha spiegato il ruolo fondamentale per il territorio ferrarese di idrovore e canali. Ma durante la puntata sono state molte le domande dei telespettatori sull'acqua. Sentiamone una. Da Reggio Emilia ci scrivono e ci chiedono quale acqua consigliate di bere per adulti o bambini? Quella del rubinetto o in bottiglia? Ecco, allora qui abbiamo un gastroenterologo. Prego, professor Gullini. In linea e massima l'acqua del rubinetto è sempre da preferire. Il tecnico potrà parlare invece delle acque minerali e spiegare le differenze fra le varie acque minerali perché purtroppo ne abbiamo troppe. Addirittura l'offerta è molto vasta e dietro l'offerta c'è sempre la pubblicità, non sempre veritiera. Quindi entriamo già in un argomento molto delicato. A lei, professore, è molto spinoso. Vediamo come se la cava. Innanzitutto noi siamo importatori ed esportatori di acque minerali. Che cosa garantisce l'acqua minerale rispetto all'acqua potabile? Una costanza nella composizione chimica. Nel momento in cui l'acqua potabile, che sicuramente, come dice il professor Gullini, è molto importante e sicura perché al 100% viene controllata quotidianamente, possiamo dire che ha una variabile di composizione che è quella che eventualmente ci può spiazzare. Nella scelta acque minerali di un certo tipo o di un altro tipo dipende anche dalla persona che le deve utilizzare. È chiaro che se io utilizzo un'acqua per i bambini, per i neonati, non posso certo utilizzare un certo tipo di acqua. Quindi molte case che producono latte in polvere consigliano un'acqua adatta per non modificare la composizione minerale. Sacca di Goro e Costa dei Lidi di Comacchio sono questi gli interventi che riguardano la provincia di Ferrara approvati dalla Commissione Territorio e Ambiente dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna che ha dato parere positivo al programma regionale degli interventi di prevenzione e sicurezza del territorio 2017. Con questo parere si dà il via libera ai finanziamenti di alcuni interventi sulla costa, richiama il consigliere regionale PD Paolo Calvano. Sono finanziati progetti che interessano i territori dei comuni di Goro e Comacchio. Nell'ambito del progetto Life Agri, un partenariato tra provincia di Ferrara, Regione, Corpo Forestale dello Stato, Università di Ferrara, Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità del Delta del Po, Comune di Goro e Cosago, sono definiti i finanziamenti per realizzare modifiche funzionali al manufatto idraulico che è posto sul collegamento tra la Sacca e il Po a traghetto e quelli per realizzare una struttura per l'orientamento della crescita dello scanno esterno di Goro. È previsto inoltre lo stanziamento di 300 mila euro che serviranno a realizzare lavori di manutenzione straordinaria sulle spiagge del litorale nord dei Lidi di Comacchio, in particolare il ripristino degli argini marini a scongiurare il rischio di allagamento delle spiagge. Parliamo ora degli appuntamenti del weekend. Terminata l'esposizione dell'Orlando Furioso, Ferrara si appresta ad un nuovo fine settimana con diverse iniziative, vediamo quali. Ferrara apre un weekend ancora ricco di appuntamenti e di iniziative. Terminata l'esposizione a Palazzo Diamanti dedicata all'Orlando Furioso, prosegue invece la mostra al Mace Touch, toccare alcune storie di cittadini ferraresi ebrei deportati, in programma fino al 28 febbraio. All'MLB Home Gallery e all'Art Gallery Hotel Annunziata si conclude Le Muse Quietanti, un lavoro di Flavia Franceschini che ha fotografato 30 coppie di personaggi che animano la scena del mondo artistico della città di Ferrara. L'Università propone anche questo fine settimana i laboratori di Uni Junior, dedicati ai più piccoli, e che avrà come docenti i professori Carmela Vaccaro, Micael Traizis e Daniele Seragnoli. Particolarmente ricco il programma dell'IBS Libraccio di Piazza Trento Trieste, con i libri consigliati da Dalia Bighinati nella mattinata di sabato alle 11, all'interno dell'iniziativa Libraio per un giorno. Seguirà alle 15 un laboratorio creativo per bambini e alle 18 la presentazione del libro Nudi e Crudi, legato all'omonima commedia in scena nel weekend al Teatro Comunale a Bado. Domenica pomeriggio invece alle 18 arriverà Giulia Innocenzi con la sua ultima pubblicazione Trita Carne. A proposito di teatri, il Ridotto del Comunale proporrà un sabato pomeriggio dedicato alla musica da camera francese per voce e arpa, chiamato Omaggio a Panna. Ferrara Off presenterà Maura Pettorusso in Nostra Italia del Miracolo nella serata di sabato, a cui seguirà un'esposizione pittorica di Giacomo Cossio domenica alle 18 in Vite al Limite. Il Ferrara Jazz Club vedrà in scena nella serata di sabato il Trio Bobo, progetto nato nel 2002 da musicisti della sezione ritmica di Elio e le Storie Tese. Mentre al Teatro Nuovo, domenica 5 febbraio alle 16, arriverà la compagnia le delizie armoniche con Il Paese dei Campanelli. Infine, ricordiamo la fiera di cose d'altri tempi e dell'artigianato e del mercato contadino nel centro storico di Ferrara. Vedere la Shoah con gli occhi dei bambini era questo, il filo conduttore del concerto della memoria tenutosi domenica scorsa nell'aulamania dell'Istituto Bachelet, ideato dal professor Piero Stefani. Il concerto ha visto tra i protagonisti l'Accademia Corale Vittore Veneziani di Ferrara. La Shoah, vista con gli occhi dei bambini, raccontata attraverso le storie esemplari, di chi era ancora molto lontano dall'età adulta quando la furia nazista si abbatté sull'Europa. Era questo il filo conduttore del concerto spettacolo proposto quest'anno in occasione del giorno della memoria dall'Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara, dal Comitato 27 Gennaio e dall'Accademia Corale Vittore Veneziani. I bambini sono la memoria del futuro come ha ricordato nel proprio intervento introduttivo il professor Piero Stefani, esperto di ebraismo e ideatore del concerto. Per questo la tragedia della Shoah va vista anche attraverso i loro occhi. Intorno alle voci narranti di Fabio Mangolini e Magda Iazzetta si è articolato uno spettacolo complesso costruito sui movimenti scenici dei bambini, delle elementari Biagio Rossetti e Dante Alighieri, sulle esibizioni canore della Corale Veneziani e sulla rievocazione delle storie personali di bambini che hanno attraversato il massacro. Tatiana e Andra Bucci, sopravvissute ad Auschwitz, Sijia Stoica, all'epoca piccola testimone dell'olocausto degli Zingari, Miriam Viterbi che sfuggì alla Shoah nascondendosi con la famiglia ad Assisi e infine Alidad Ashiri, fuggito in tempi molto più recenti dall'Afghanistan quando aveva appena nove anni. Quindi, passato recente e memoria storica che si incontrano perché il ricordo è un dovere che va coltivato ogni giorno se si vuole che partorisca la speranza. Bene, questo era il nostro ultimo servizio, termina qui il TV Giornale. Io vi ringrazio per averci seguito come sempre e vi ricordo gli aggiornamenti sul nostro sito www.telestense.it ma potete seguirci anche su Facebook, Twitter e YouTube. Grazie ancora per essere stati con noi e buon proseguimento di serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.